Ci sono alcuni colleghi del Dipartimento di Fisica che stanno provvedendo alla taratura dei diversi strumenti che servono per la misura. Si prevede che entro dieci minuti la taratura sarà terminata, dopodiché si darà inizio all'esperimento. Quindi siamo quasi in orario. In questo momento stiamo facendo delle operazioni preliminari. Diciamo subito che tipo di misure andremo a fare oggi. Due tipi di misure. Prima di tutto andremo a verificare l'energia prodotta da questo apparato e come lo andiamo a fare. Andandolo a fare andremo a scaldare dell'acqua e a vaporizzare dell'acqua, sapendo ovviamente qual è il calore latente di evaporazione e quanta acqua stiamo vaporizzando al secondo, noi possiamo sapere qual è la potenza che viene prodotta dall'apparato. Chiaramente questo è un valore di base, la potenza effettivamente prodotta è maggiore perché l'apparato non è completamente isolato, però già questo ci darà un'idea che l'apparato produce almeno la potenza che andremo a calcolare. In secondo luogo noi dobbiamo riuscire a capire la fonte di questa energia. E la prima cosa che dobbiamo fare, penso sia già stata fatta, è di cercare di escludere che ci sia una fonte chimica. Adesso l'apparato è collegato, c'è proiettata qua l'immagine, l'apparato è collegato a una bombola di idrogeno che si trova qua e la spiegazione più banale, quando uno vede qualcosa collegato a una bombola di idrogeno, è dire bene sto bruciando idrogeno. Beh, quello che viene fatto in modo preliminare è di pesare la bombola di idrogeno in modo da vedere quanta massa di idrogeno c'è nella bombola e a fine prova di pesarla nuovamente per vedere, verificare l'idrogeno consumato. La differenza che uno si aspetta in ordine di grandezza, guardate, adesso per essere sincero e molto anche scientificamente corretto, il processo che avviene all'interno del reattore ne è ignoto, così come è ignoto a chiunque non lavori direttamente con rossi, è coperto da segreto industriale. Comunque parlando come ordini di grandezza, la differenza di energia prodotta fra energia chimica, di sorgente chimica e energia di sorgente nucleare, che sia fusione per esempio, è dell'ordine di 10 alla 6, 6 ordini di grandezza, quindi un fattore un milione. Vuol dire che praticamente durante la prova noi non ci aspettiamo consumo di idrogeno misurabile, a parte quello assorbito dai metalli presenti nella cella, ma anche quello lo andremo a misurare. Lo andremo a misurare come a fine prova, noi prima accenderemo l'apparato, misureremo l'energia, adesso vi dico anche che misureremo altre cose, ma misureremo l'energia, a un certo punto noi chiuderemo la bombola di idrogeno, senza spegnere il reattore. Noi chiudiamo la bombola di idrogeno e la pesiamo. La differenza di peso attesa è qualche grammo, qualche grammo che potrebbe essere interpretato come l'idrogeno assorbito dai metalli. A questo punto io ho fatto una botta di conti supponendo una potenza di una decina di kilowatt, per una decina di kilowatt l'apparato dovrebbe continuare a funzionare per 30 secondi ogni grammo. Se l'apparato continua a funzionare per più tempo, quell'idrogeno presente nell'apparato non giustifica la produzione di energia per sorgente chimica. Vi posso dire che sono stato testimone di una prova preliminare avvenuta in questo stesso laboratorio il 15 di dicembre, dove abbiamo fatto questo, con lo stesso reattore abbiamo fatto esattamente questa stessa manovra, cioè di chiudere l'idrogeno e l'apparato ha continuato a funzionare per più di 20 minuti a piena potenza, finché si era fatto tardi e è stata aperta l'acqua per spegnerlo e abbassare le temperature. Ma non ci accontentiamo solo di questo, dal dipartimento di fisica abbiamo portato due contatori all'ioduro di sodio, l'ioduro di sodio per chi lo conosce è un ottimo scintillatore, è un scintillatore inorganico che diciamo così fa da piccolo calorimetro, si potrebbe con l'ioduro di sodio fare il dipartimento di fisica INFN, scusate che abbiamo qua i due direttori che ci stanno appoggiando in questa ricerca, il professor Zoccoli e il professor Capiluppi, direttore del dipartimento di fisica e il professor Zoccoli, direttore della sezione INFN di Bologna. Allora abbiamo portato due scintillatori all'ioduro di sodio e li abbiamo posti vicino a due fori praticati nella schermatura di piombo del rivelatore e misureremo quindi anche le radiazioni in uscita. Perché due? E perché due rivelatori messi, come si dice in gergo, usando un inglesismo back to back, cioè in due direzioni opposte, perché quando avvengono reazioni nucleari spesso vengono prodotti isotopi che decadono facendo quello che viene chiamato un decadimento beta più, cioè con produzione di un positrone e anche di un neutrino che chiaramente qua non abbiamo attrezzature per rivelare. Quando questo positrone viene prodotto si annichila immediatamente nella materia normale, il positrone è un esempio di, chiamiamolo così, di antimateria, si annichila immediatamente con un elettrone a materia normale e produce due fotoni, due, che viaggiano in due direzioni opposte, quindi l'osservazione e produzione di fotoni in coincidenza fra loro in due direzioni opposte è una chiara signature, speriamo di verificarlo, sarebbe una chiara signature di decadimento beta più. Questa mattina qua abbiamo anche misurato il fondo, i conteggi dovuti a cosmici, voi sapete che siamo continuamente bombardati, la natura ci regala 200 particelle a metro quadro al secondo di origine cosmica e origine naturale, quindi a reattore spento questa mattina abbiamo fatto i conteggi di fondo ottenendo su 10 secondi qualche unità di conteggio, dato l'angolo solido, data la direzione con cui sono stati messi i rivelatori. quindi vedremo se questo fondo chiaramente sarà sottratto dalla misura, queste misure e tutto questo insieme di misure correlate fra loro ci dovrebbero dare la signature o perlomeno degli indizi della produzione non chimica e molto probabilmente nucleare di energia da parte di questo reattore. Quello che vedete qua è il reattore stesso che penso che in questo momento venga pesato perché una delle operazioni che abbiamo chiesto di fare era anche di pesare l'intero reattore prima e dopo la misura, vedete, uno le deve pensare tutte, se dentro al reattore ci fosse un elemento chimico sconosciuto, perché vi assicuro non riesco a immaginarmelo, che viene pian piano consumato, a noi nascosto, che viene pian piano consumato e da lui a produrre energia, beh a fine serata quell'oggetto dovrebbe pesare di meno, lo pesiamo la bilancia su cui viene posto è sensibile al decimo di grammo, quindi dovremmo essere sicuri che se qualcosa viene consumato, è un check in più, uno cerca di pararsi, benissimo, adesso torno dentro a seguire le ultime operazioni, penso che fra poco il reattore sarà acceso, adesso vedo che lo stanno riposizionando in posizione di misura, che fra poco il reattore sarà acceso, quella che vedete qua è la pompa che introduce l'acqua a flusso costante dentro il reattore, questo flusso è stato misurato, questa gialla, questa gialla qua è una pompa peristaltica che dà dei colpi, in questo momento ho misurato, mi pare 12 litri l'ora, ma dopo le do il numero esatto, qua dietro ci sono tutti i nostri apparati, il setup che abbiamo scelto, ecco una cosa da dire, il setup che abbiamo scelto per le misure nucleari è stato appositamente scelto, estremamente semplice, quando potrete venire a vederlo dentro, chi conosce questo tipo di elettronica potrà dire, beh questa è elettronica che si usa almeno da 20 anni, elettronica NIM standard, vi assicuro che abbiamo anche dei rivelatori, se lo vuole portare dentro lo porti pure dentro, ne abbiamo anche il dottor Bianchini che si occupa di radioprotezione e che mi ha messo vicino a me un rivelatore di neutroni, spero che segni zero, perché se segna qualcosa di zero, abbiamo detto dentro che quando vedremo l'esperto di radioprotezione che scappa, forse è il caso di scappare anche noi, no ma vi dico, questo genere è elettronica, cioè abbiamo cercato di fare una misura che non lasci dubbi, se mettevamo lì un setup iper tecnologico sofisticato, ci poteva essere sempre qualche baco, adesso con due scintillatori, un paio di amplificatori, dei discriminatori e una porta end e dei contatori, noi facciamo tutto, tra l'altro devo dirvi, per chi conosce queste, controlliamo anche le coincidenze accidentali, back to back, ok, professor Strimenos salve, magari adesso ci hanno fornito due buchi, quello sarebbe già uno spettrometro, ci hanno dato due buchi back to back nel shielding del reattore e con quello ci dobbiamo accontentare, ma intanto è già molto, voglio dire, adesso misuriamo, vi posso dire che faremo dei conteggi in singola per ciascun contatore, le coincidenze per vedere questi famosi fotoni da decadimento beta, ma anche per controllo ritardando uno dei due contatori, quindi mettendolo come si dice in gergo off time, completamente scorrelato rispetto all'altro, misureremo anche le coincidenze accidentali, quelle dovute alla statistica, questo è importante perché sarà un valore da sottrarre poi al totale visto dai contatori in coincidenza. Allora, a dicembre ho fatto le misure calorimetriche ma non avevo l'attrezzatura per fare le misure di tipo gamma e il revelatore era completamente schermato, in quell'occasione l'esperto di radioprotezione grazie al cielo non ci aveva fatto vedere nulla, non mi è noto lo spessore dello shielding interno del... non lo so, perché è uno dei parametri... io non potrò rispondere anche perché non lo so su qualunque domanda riguardante il funzionamento del reattore, io risponderò a domande riguardanti... quanto pesa questo lo sapremo e sapremo soprattutto la differenza di peso, comunque magari domande riguardanti al reattore lei le farà all'ingegner Rossi che sono sicuro che è preparato però le risponderà se è il caso anche perché ci sono questioni e io addirittura ho rinunciato a farne io faccio le mie misure e basta va bene torno dentro